Il PSD e i socialisti democratici Il PSD, nuovamente presente con i propri candidati sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica, grazie all'accordo elettorale siglato con Di Maio e Zampacci, il prossimo 25 settembre potrà essere scelto dagli elettori socialdemocrati attraverso il voto alla lista di coalizione di impegno civico. Il voto al sole nascente è un voto a favore della giustizia sociale, dei diritti civili e della transizione ecologica.